Buon pomeriggio a tutti, fratelli d'Italia, siamo passati, è stata una partita veramente difficile, più difficile di quello che pensavamo, ma alla fine gli azzurri ce la fanno e vanno ai quarti di finale, ci sono voluti i tempi supplementari, c'è voluto il VAR per non essere eliminati durante la partita regolamentare, ma adesso analizziamo la gara. Un primo tempo dove l'Italia prova a fare la partita, ma trova un'austra ben chiusa, che non permette moltissimo, dove noi fatichiamo soprattutto perché i giocatori più importanti non sono in giornata, mettiamola così, perché Berardi è stato veramente scandaloso sulla destra, immobile, completamente immobile nel vero senso della parola, inutile. Insigne che fa sempre la stessa giocata, sulla sinistra rientra e tira, non prova mai a metterla in mezzo, insomma, un primo tempo bloccato dove abbiamo fatto poco. Nel secondo tempo ancora peggio, perché il secondo tempo lo ha fatto l'Austria, dove ha rischiato più volte di passare in vantaggio, c'è pure riuscita a passare in vantaggio. A proposito, per quanto riguarda il gol dell'Austria, caro Gigio Donnarumma, se tu pretendi 12 milioni l'anno, non puoi uscire a farfalle su un cross come quello del gol dell'Austria, c'è ma sei vergognoso, sei scandaloso. Un'uscita del genere è scandalosa, perché quel gol è colpa tua, è palesemente colpa tua e poi pretendi 12 milioni l'anno, per me non li vali e non è la prima volta che lo dico. Per carità, tra i pali come riflessi tra i migliori, ma quando c'è da uscire a livello di età e di tecnica, sei imbarazzante come portiere, sei imbarazzante. Veniamo graziati un'altra volta dal VAR, sempre nel secondo tempo, evitiamo un calcio di rigore perché c'era il fuorigioco prima, allo stesso modo ci negano il rigore a noi perché c'era il fuorigioco prima. L'Italia quando attacca è abbastanza sterile, fortunatamente Mancini capisce che Berardi deve uscire, lo fa a partita ormai scaduta sullo 0-0, fa entrare Chiesa e lì cambia la partita, con Pessina cambia la partita. Diciamo che la vittoria, la qualificazione è arrivata grazie ai cambi azzeccati di Mister Mancini, che poi azzeccati non è che ci volevano un genio, si vedeva che Immobile stava facendo cacare ma Belotti ha fatto cacare quanto Immobile. Almeno Chiesa ha dato sprint sulla destra e ha fatto un gol, ma ha fatto un gol Chiesa, ma veramente veramente bello, la mette giù di testa, lo stava allungando, col sinistro lo riporta verso l'interno e tira, anzi col destro lo riporta verso l'interno e tira di sinistro un pallone al palo più lontano, un gol veramente bello. Bello, sull'1-0 loro si aprono, riusciamo a raddoppiare un altro bel gol, stavolta di Pessina, secondo gol consecutivo di Pessina e nel secondo tempo supplementare invece di stare tranquilli, finisce l'imbattibilità di Donnarumma, finisce la nostra imbattibilità. Prendiamo un gol stupido sul primo palo di testa, sul primo palo di nuovo Donnarumma, sul primo palo, Donnarumma sul primo palo, sei scandaloso, stavolta il gol è valido, ma la partita finisce 2-1. Contento, il sogno continua, però se non cambia la personalità la prossima siamo rovinati perché o è Portogallo o è Belgio, se tu fatichi con l'Austria, se fatichi con l'Austria non puoi uscirne bene da Belgio e Portogallo. Io spero che sia stato soltanto il motivo, può essere che l'Italia non gioca una partita eliminazione diretta da 5 anni, quindi l'ansia della prestazione, del risultato, la paura di non farcela perché non c'è più l'abitudine, ma adesso deve cambiare il registro perché quella di ieri non è stata per niente un'Italia bella, assolutamente. È stata l'Italia più brutta vista fino adesso ed è stato al primo avversario un po' più ostico. Il prossimo sarà più ostico ancora, quindi mi raccomando, è stato bello passare, abbiamo passato il turno, siamo comunque arrivati ai quarti, quindi la mia previsione si è verificata, perché io ho sempre detto che per me l'Italia arriva ai quarti, può anche uscire ai quarti e uscirne a testa alta perché sulla carta noi siamo più scarsi di Portogallo e Belgio, però è anche vero che fino a ora che come gruppo abbiamo dimostrato più degli altri. Ora questo gruppo si deve vedere di nuovo perché altrimenti ne prendi 4 dal Belgio e 4 dal Portogallo. Quindi ragazzi, su questa vittoria dell'Italia, che ovviamente ci rende tutti orgogliosi e felici di essere ai quarti di finali perché il nostro sogno continua, io non ho altro da dire, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e mi raccomando, sempre Forza Italia!